Giuseppe Formato, presidente della FIB Molise, voi non vi fermate davvero mai dopo un anno pieno di appuntamenti dove avete giocato ogni fine settimana, anche in estate l'attività non si ferma. Adesso c'è questo torneo di beach bocce da Santucci Sportzone. Come sta andando e fino a quando sarete impegnati? L'attività boccistica non si ferma mai dal 1 gennaio al 31 dicembre. Giochiamo sempre perché abbiamo la possibilità di praticare diverse specialità. Terminate le gare domenicali della Raffa e con l'evento clou che sono state le finali scudetto di alto livello di serie A maschile e femminile e minore e sospitate per la prima volta a Campopasso, nei mesi di luglio-agosto ci siamo dedicati, oltre a qualche gara nei nostri bocciodromi della specialità Raffa, ci siamo dedicati al beach bocce. Abbiamo organizzato un circuito di gare a Santucci Sportzone con Trada Mascione a Campobasso e a Montenero di Bisaccia con la bocciofila montenerese. Una serie di gare che termineranno il 21 agosto proprio a Santucci Sportzone, al termine delle quali sarà stilata una classifica generale e la coppia prima classificata avrà l'opportunità di andare a giocare a Genova, che è la capitale europea dello sport 2024, le finali nazionali della specialità del beach bocce. Ecco, tra settembre e ottobre l'attività riprenderà a pieno regime. Che anno ci dobbiamo aspettare? Un anno importante, un altro anno importante. Innanzitutto termineremo questa stagione sportiva, la stagione 2024, con le gare che riprenderanno, oltre come detto il beach bocce, riprenderanno il 25 agosto con una gara a Frosolone, un individuale regionale, il trofeo del Museo del Profumo di Sant'Erena Sannita, per proseguire con una gara serale alla bocciofila Monforte di Campobasso. Ancora una gara di alto livello riservata alla categoria A e parallelamente una gara sempre a coppia riservata alle categorie B, C e D. L'8 settembre organizzata dalla bocciofila alla Torre Vinchiaturo e dalla Pistilli Costruzioni. Ricordiamo il papà di un nostro atleta, Dino Pistilli, Paolo Pistilli. Sarà una domenica importante perché i più forti giocatori della nostra disciplina saranno a Vinchiaturo e Molise, per contendersi questo ambito trofeo. Poi ci sarà una gara a Castelpetrose e proseguiremo con tutte le gare in calendario fino a dicembre. I momenti importanti di questo finale di stagione sono il 28 settembre a Chianciano Terme perché la delegazione dei delegati del Molise sarà in Toscana a Chianciano Terme per il rinnovo dei vertici della federazione italiana bocciofila e con la ormai certa riconferma del presidente Marco Giugno De Sanctis che si appresta al suo terzo mandato. Di lì si aprirà la fase elettiva dei comitati regionali e quindi anche la Fib Molise subito dopo l'elezione di Chianciano Terme sarà al voto per il rinnovo dei vertici della Fib Molise e delle delegazioni provinciali Fib Campobasso e Fib Isernia. Qui a Campobasso e anche sulla zona adriatica insomma pieno di strutture in cui si pratica l'attività boccistica su Isernia ci sono dei progetti che si stanno attivando per il rifacimento o per la costruzione di nuovi campi di bocce? Sì abbiamo 21 società affiliate, una gran parte, una quindicina nella provincia di Campobasso nella provincia di Isernia stiamo cercando di diffondere la pratica agonistica dello sport delle bocce l'ultima società nata e affiliate in ordine temporale, la SD bocciofila Roccaravindola con il campo di bocce che è stato appunto costruito, recuperato dall'amministrazione comunale di Montaquila il presidente Francesco Di Mauro ha creato questa società sportiva che vede già tanti tesserati, tanti appassionati e l'auspicio così come sta avvenendo anche a Montenegro è quello di fondare e affiliare società bocciofile per spingere attraverso le amministrazioni comunali, spingere sulle amministrazioni comunali per la realizzazione di bocciodromi un po' in tutti i paesi dove manchiamo appunto di una struttura per permettere ai nostri appassionati di non doversi spostare magari nel paese accanto per giocare a bocce per la realizzazione pubblica